Assenze annunciate quelle dei deputati di Forza Italia, la Rocca Ruvolo e Gallo, così come della componente di Fratelli d'Italia che fa riferimento a Giusi Savarino e del Movimento per l'Autonomia alla riunione che era stata fissata nei giorni scorsi dal sindaco di Ribera. Il confronto politico programmato da Matteo Ruvolo questa mattina si è comunque svolto con la presenza del capogruppo della DC Carmelo Pace e del deputato nazionale di Fratelli d'Italia Calogiro Pisano. Non quello che ci si aspettava considerato che le critiche all'operato della giunta erano arrivate proprio da Forza Italia e poi successivamente anche dagli ex alleati di Matteo Ruvolo. Chiarimento rinviato con il sindaco che ha ribadito di essere disponibile ad incontrare anche nei prossimi giorni quanti vorranno confrontarsi e dare il proprio contributo alla città come è avvenuto questa mattina con i deputati Pisano e Pace. Sono state analizzate le cose fatte dall'amministrazione comunale fino ad ora in questi tre anni, i progetti realizzati, le opere realizzate, gli investimenti effettuati, i progetti in itinere. A partire dalla strada per il castello di Poggio Diana, per parlare delle opere che riguarderanno lo stadio comunale, il progetto esecutivo dello stadio. Ho spinto perché ci si faccia carico del finanziamento di quest'opera e sicuramente l'onorevole Pace ha dato grande disponibilità e abbiamo contattato anche, grazie all'onorevole Pace, telefonicamente i dipartimenti regionali per capire e spingere che ci sono, si sono fissati degli appuntamenti per questa settimana e per la prossima. Altri finanziamenti che riguardano la protezione civile, la realizzazione di opere della via Taranto, dopo che si sono conclusi già e dovranno essere collaudate le opere incontrate a Mirillo finanziate alla protezione civile per 300 mila euro. Un'altra opera di via Taranto e via Trento per un milione e mezzo circa di euro per sollecitare con l'onorevole Pisano i fondi del PNRR, i finanziamenti e dare la possibilità di rimodulare i progetti che devono essere esecutivi. Si è parlato di sanità e si è fatto il punto anche su quello che sono le opere anche meno importanti da realizzare che riguardano le nostre palestre comunali. Ci siamo dati appuntamento per poter portare avanti tutta questa programmazione, tutti questi impegni che con senso di responsabilità, senza logiche di appartenenza, si vogliono portare avanti. C'è stata la piena disponibilità sia dell'onorevole Pace che dell'onorevole Pisano. Sono certo che quando avremo modo di incontrarci con gli altri deputati della provincia, al di là delle dichiarazioni, delle prese di posizioni che possono essere in ogni caso confrontate con l'amministrazione comunale per capire e renderci conto che questa amministrazione, questo paese non è abbandonato a se stesso, così come qualcuno ha affermato, ma che invece bisogna lavorare tutti perché possa sempre migliorare la propria situazione. Una città è una comunità e un territorio si amministra tutti assieme, mettendo da parte le beghe politiche o gli interessi del proprio orticello e lavorando nell'esclusivo interesse invece della comunità e delle comunità che sono amministrate.